Quando sport fa rima con inclusione sociale, non si sono persi d'animo gli amici dell'Associazione di Tisoi al GOSER che non potendo in questo 2020 a causa della pandemia dare vita alla GOSER Trail, la corsa benefica dedicata alla raccolta fondi per il progetto Dolomiti Orizzonte Paralimpico, nelle modalità tradizionali hanno ideato la Virtual Trail che permetterà agli amanti della corsa in montagna fino al 31 dicembre di cimentarsi in autonomia lungo i sentieri che salgono il Talvena nel percorso tracciato in maniera permanente e contribuire così comunque all'obiettivo solidale. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre per percorrere i sentieri del GOSER Trail, sono tabellati in maniera fissa sia la gara da 17 sia la gara da 10 km, poi tramite l'app Strava si potrà vedere il proprio tempo sul percorso oppure in maniera tradizionale fermandosi al Circolet c'è una piccola cartolina da compilare. Arrivati al pianon di Talvena, l'invito degli organizzatori e i partecipanti a quello di scattare una foto con la nuova finestra per condividerla poi sui social, non sono previste classifiche di nessun genere, lo staff del GOSER Trail si riserva il diritto di assegnare dei riconoscimenti a fine prova, un'occasione per valorizzare il territorio ma soprattutto per sostenere il progetto Dolomiti Orizzonte Paralimpico. Questo progetto veramente dà una grande opportunità a queste persone della nostra provincia con disabilità ad avvicinarsi allo sport e attraverso lo sport oltre a scoprire abilità soppite riesce anche a integrarli nella società e a evidenziare le proprie abilità.